Sì, è una realtà a cui inevitabilmente dobbiamo far fronte, quella di avere una società multiculturale, quindi assolutamente si iniziamo dalla scuola per favorire l'integrazione sin dai primi anni. Deve essere formato per questa finalità specifica, quindi sì assolutamente. Molto dipende dalla capacità dell'insegnante di far dialogare questi bambini tra loro e creare le condizioni per un confronto costruttivo, per evitare occasioni di contrapposizione e scontro partendo da aspetti culturali e religiosi.